Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata da Computer Museo puntata che sarà praticamente sul test video di questa fantastica videocamera, retrocamera professionale infatti questa telecamera è datata 1900... adesso ve lo dico proprio giusto come è datata 1997, una professional camera ovviamente non è chissà che però sinceramente è veramente bella è la sosia praticamente della Philips che avevo recensito molto tempo fa l'ho trovata nello stesso mercatino, questa per la vita era di un'azienda probabilmente perché è più che altro di una squadra di calcio che da queste parti è un po' famosa e praticamente è stata venduta a 20 euro e a parte quello utilizza gli stessi accessori che ha la Panasonic infatti usa queste batterie che per la verità è quella che abbiamo acquistato tempo fa su ebay a 30 euro e funziona poi c'ha l'adattatore che poi è lo stesso alimentatore di quello che mi si è bruciato da Philips quindi sono proprio al massimo oltre a quello c'ha uno zoom che veramente è formidabile e poi c'ha un microfono che è tale uguale a quello della Philips comunque partiamo col test subito dopo la sigla e poi c'è un po' famosa quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.